Roberto Marinoni in fuga, sin dal primo giro. Un minuto e mezzo, i tre fuggitivi, ecco il gruppo sfilato in Pirendiana. Ecco qui il secondo, il gruppo si è frazionato in tanti tronconi. Ecco il gruppo, i primi progettivi anni, fanno un minuto e mezzo gli inseguitori. In fuga Roberto Marinoni, ecco il gruppo, un altro gruppo di atleti. 5 gare alla squadra. Grazie.